Ciao bello io sono Daiko e benvenuto in questo nuovo video Finalmente Cannoloman è stato spodestato E potrò imporre la dittatura degli ornitorinki Mua Mua Lo picchio sto Daiko Lo picchio se lo rip... Ciao bello sono Lauridis Ah Scusa E' uscita la nuova patch su Rugged League Hanno inserito gli oggetti eSports E in più hanno sistemato qualcosina Andiamo a vedere insieme cosa hanno sistemato E poi andiamo a vedere insieme per la prima volta gli oggetti eSports Allora Vabbè Sì 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 Hanno messo degli effetti nel replay Il replay è fakes Quindi puoi creare e editare screenshot mentre vedi il replay Vedremo insieme più avanti cosa è Il Rugged Pass 3 arriverà il 17 Quindi oggi alle 5 ott Quindi oggi arriva pure il Rugged Pass 3 Domani è un altro video Attenzione Domani è un altro video Poi vabbè gli oggetti sport Monster Cat è 90enne Al cui non fregante a nessuno Le challenge Questo tutto già sappiamo Attivo Sì 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 Questo già tutto abbiamo detto tutto Il replay è fakes Quindi ora si può A morte i capibara Si può controllare la distanza del focus Del blur Della forza Quindi il DOF Ah si può fare il green screen Se è fatto bene ragazzi Se è fatto bene è la fine È la fine Ok poi alcuni giocatori non possono più aprire le casse Vabbè per Per legge Adesso quelle in Belgium e in Olanda Ma va bene appena ho avvistato qualche bug Un bug importante è questo Sistemato un problema Che rallentava La girata Avrò la sterzata E il freno a mano E il trotto Il trotto No vado a tradurre Questa cosa è strana Gne 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 C'ho i muscoli Il registro mezzo nudo Perché i miei Non mi hanno picchiato abbastanza da piccolo Boh ragazzi Scusami Mi scuso al nome di Daiko Non so cosa Funziona con i token Tu compri i token Che sono la valuta Del 604,50 600 sono due skin Sì Ok Una skin Se compri le ruote Quindi vediamo Cloud9 di Call Eh Ma i colori sono L'oro Ma posso scegliere il secondario Fammi cambiare macchina un attimo Mettiamo questo un attimo Che è più strana Fammi vedere se posso il secondario No il secondario non dipende da me E perché Non bianca Quella di Cloud9 Perché nera e blu C'è l'est E blu Perché Fa schifo Orribile Ma perché non l'hanno fatta bianca Scusami Qua si vede il logo Si vede in alto a sinistra Ah ma è a tempo Ed è per la Dominus Questa invece è per l'Octane Questa è già più bella Vedi Questa è già carina Splice Si sta un po' di più Però C'è un però da dire L'oro tempo fa Ho detto Noi non vogliamo mettere Il negozio di sports Perché non vogliamo mettere Le solite skin Hanno messo le solite skin Perché sono skin normalissime Una va a cagare Una è carina Andiamo a vedere la terza Boh Hanno fatto le solite skin Ora qua ci sono le ruote Vediamo le ruote Ecco Già le ruote sono belle Già le ruote hanno senso Però veramente Ci sono voluti mesi Anni Per parlare con le associazioni E fare uscire Diverse associazioni Prendi a tre sti cazzo Oggetti Cominci Pensate a queste cose Per vedere come lavora Sionics Le ruote sono carine Il gufetto che esce È carino Poi il copertone Non mi piace Però almeno noi Queste ruote sono già più Vedi C'è un po' più di lavoro Dentro le ruote È più carina Sono più carine Il banner Ah il banner costa 100 Ci può sta Dal banner ci sta Ci sta Ci sta il banner Ci sta bene RG Questa è bella Vedi però Nell'NRG I colori hanno rispettati Perché ne si 9 No Perché è nero Ne si 9 Perché è nero È finito qua giusto Tra 6 ore Ah tra un giorno Allora ci sono quelli da Tra 6 ore questi cambiano E tra un giorno Questa cosa Perché è a tempo Perché non farlo direttamente Tutto insieme È quello che voglio Mi compro Perché devi mettermi a tempo Gli oggetti per Per le associazioni Sports Se voglio supportare Ad esempio C9 Fammi comprare Tutto quello cacchio Che voglio Dei C9 Giusto Perché me lo devi mettere A tempo Perché devo aspettare Perché devo stare qui A vedere Ah è uscito O non è uscito Questo non capisco Cioè è uno shop Fatto per supportare Le associazioni E sports E quindi i giocatori Di quelle associazioni Che voglio supportare Giusto Perché me lo metti a tempo Perché se voglio supportare Ad esempio E rogue E quelle non ci sono Perché devi mettere A tempo E devono aspettare Quelli per il mio supporto Che senso ha Non lo capisco Questo Non lo capisco E comunque mi pare Che solo il 30% Si prende La società Il 70% Solo prende Psyonix Quindi diciamo che Eh Diciamo che Stiamo capendo Come lavora Psyonix C'è chi vuole capirlo C'è chi ancora Non vuole capirlo Però Per questo video è tutto Io ti ringrazio Per averlo visto Mi scuso Per il pazzo di Daigo Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ciao Gne 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 Sono Lauridis E so suonare la chitarra Ah era il basso Gne gne E so suonare la chitarra